Eccoci qui, eccoci qui con Luigi Di Maio di nuovo, buongiorno. Buongiorno a lei. Allora, cominciamo subito perché lei non ha molto tempo, ovviamente noi avremo tante tante domande da rivolgerle, però insomma la prima domanda che sorge spontanea un po' a tutti, come diceva l'amico Lubrano, è ma se dovevate tornare indietro sul rapporto da Efficient Peel del 2,4, perché non l'avete detto subito? Evitandoci l'aumento dello spread, eccetera. Posso dirle una cosa, quando siamo arrivati come governo l'Europa ci chiedeva di fare l'1,6, che significava non poter fare nulla, neanche evitare l'aumento dell'IVA, cioè aumentava anche l'IVA con l'1,6 di deficit. Noi che cosa abbiamo detto? Abbiamo detto, vogliamo fare quota 100, reddito di cittadinanza, aumento pensioni minime, aiuti agli imprenditori, aiuti ai truffati delle banche, tutto questo per noi è 2,4. Poi abbiamo iniziato una trattativa e si è arrivati a 2,04, ma se partivamo dall'1,6 finivamo ancora più giù e alla fine finiva che dovevamo chiedere anche i soldi agli italiani. Quindi è stata una trattativa nella quale portiamo a casa tutti i risultati che avevamo messo nel nostro programma della legge di bilancio e soprattutto ricaviamo ancora più soldi da tagli di pensioni d'oro, tasse a bianche assicurazioni, tagli dei vitalizi, taglio della spesa militare inutile. Andiamo a fare quelle cose che avevamo detto di fare. Allora, quindi insomma, diciamo che era una strategia, quindi quando dicevate non scendiamo dal 2,4, non era vero, lo sapevate che sareste scesi? Quando abbiamo fatto le stime rispetto al 2,4, noi abbiamo detto, calcoliamo che tutti quelli che possono andare in pensione con quota 100 ci vadano, calcoliamo che tutti quanti utilizzino le misure che mettiamo. Abbiamo messo più soldi, giustamente, di quello che abbiamo previsto. Io mi ricordo, perché il campanile interliterale lo dicevamo, lo dicevamo anche insieme, il reddito di cittadinanza sarebbe costato 17 miliardi, 2 per i centri per l'impiego, voi dicevate che c'erano anche tutte le coperture, adesso sono diventati 7,1, però tra 7,1 e 17 c'è un'enorme differenza, quindi qualcosa cambierà rispetto ai vostri progetti iniziali. Come ho detto dall'inizio della legislatura, noi ci rivolgiamo prima di tutto a 5 milioni di persone che sono quelle più in difficoltà, gli italiani più in difficoltà. Ci sono fino a 9 milioni di persone sotto la soglia di povertà relativa, ma ci rivolgiamo prima di tutto ai 5 milioni di famiglie che oggi sono in difficoltà enorme e vogliamo reinserire lavorativamente. Poi partendo a marzo, e si partiva da 9 milioni, partendo a marzo. Perché diceva, il tri ha detto aprile ieri. Io il primo aprile non partirò mai perché pesce d'aprile, quindi per me si parte a marzo. Come ministro del lavoro che gestirà tutto il dossier del reddito, si parte nel mese di marzo e si parte non solo con il reddito, perché nel mese di marzo le pensioni minime, lo dico a tutti i pensionati... Ma come fate con 6,1 miliardo? Perché uno va per i centri dell'impiego. Sì. È un po' poco, non potete dare 780 euro a tutti. 6 miliardi di euro non sono pochi. Io le assicuro che... Rispetto a quello che avevi detto all'inizio, figuriamoci, io chissà cosa ci farei con 6 miliardi. Magari basta una vita per spendere ad una sola persona. Le dico, con 6 miliardi noi facciamo tre cose. La prima è le pensioni minime. Tutti coloro che hanno una pensione minima e sono in difficoltà andranno ad una pensione minima di 780. Questo da marzo dell'anno prossimo. Le pensioni per gli invalidi, cioè le pensioni di invalidità, tutti gli invalidi che sono in difficoltà e hanno una pensione sotto i 780, andranno a 780. E poi c'è tutto il programma di reinserimento lavorativo del reddito. Ora lei dirà, ma come fate a dare 780 a tutti? Ma non è così. Perché come le dicevo per i pensionati e come le dicevo per tante famiglie in difficoltà, alcuni hanno un reddito di 200, 300 euro, ma devono sfamare due figli. Sono in mezzo ad una strada, non riescono a trovare lavoro, hanno un reddito familiare in tutto il nucleo, 200. Noi li portiamo a 780 però per fare una cosa, un impegno a formarsi per un lavoro che serve a me Stato. Io glielo propongo e se non lo accette perdere il reddito. Verrà dato anche un po' alle imprese? Perché la Lega chiede di poter dare gli ultimi mesi alle imprese che assumono, come se fosse una sorta di sgradio sulle assunzioni. Sono 5 anni che portiamo avanti questa proposta, in cui da 5 anni c'è un meccanismo molto semplice. Perché qual è il problema oggi per un ragazzo che non trova lavoro? È che il centro per l'impiego non incrocia la domanda e l'offerta, cioè non è in contatto con le imprese che chiedono lavoro, perché le imprese non credono negli strumenti del centro per l'impiego. Io credo ci vorrà molto tempo per rimetterli a posto, per questo noi faremo un sistema misto pubblico-privato, cioè la formazione della persona potrà avvenire in impresa, in un centro di formazione, in un'agenzia privata, in un'agenzia pubblica. Poi che succede? Diciamo alle imprese, se tu assumi dalle persone che hanno il reddito oggi, noi ti diamo il reddito per 6 mesi, come sgravio fiscale. Quindi l'impresa e l'imprenditore, se forma quella persona o se lo assume, prenderà una parte del reddito o tutto il reddito che sta prendendo la persona. Perché il punto è che alla fine il mio obiettivo è prendere quel ragazzo che sta in un letto in depressione da 3 anni, o quel meno giovane, il papà che ha perso il posto di lavoro, e trovargli un lavoro che non è per forza un posto. Perché noi formiamo le persone anche per l'autoimpiego, quindi per l'imprenditorialità. Potranno diventare commercianti, potranno diventare imprenditori. Allora a quel punto la loro impresa, in fase di avviamento, prenderà come sgravio quel reddito che stava prendendo la persona che si forma. Chiarissimo. Senta, le opposizioni dicono che la manovra è stata scritta a Bruxelles. A lei ovviamente mi dirà che non è così, però io le dico un'altra cosa. Però seguiamo un ragionamento logico su questa cosa, mi scusi un attimo. Allora, Bruxelles ci aveva chiesto di superare la fornare non se ne parla, quota 100 non la potete fare, il reddito non lo potete fare, aumentare pensioni minime non lo potete fare, e non potete aiutare i truffati delle banche con un miliardo e mezzo, e mettiamo quest'anno. Siamo andati a Bruxelles, abbiamo spiegato le nostre ragioni, abbiamo raggiunto l'accordo, e queste cose sono nella legge di bilancio. Ora, come si fa a dire che l'ha scritta a Bruxelles, se in questa legge ci sono cose che non piacevano a Bruxelles? Però sa che il mio mestiere è quello ovviamente di farlo. Se puoi segnalare i punti critici, io lo devo segnalare, che ieri peraltro sono andati tutti, sono usciti dai lavori di commissione. Perché? Perché la manovra di bilancio per la prima volta non viene esaminata dalle commissioni, e quindi andrà in Parlamento e verrà messa la fiducia su qualcosa che il Parlamento non ha neanche potuto vedere. Per un partito, anzi mi perdoni, per un movimento come il vostro, che ha sempre rivendicato la centralità del Parlamento, non è proprio il massimo della coerenza. La Camera dei Deputati in commissione ha lavorato e ha migliorato questo testo. Ma la manovra è un'altra, però. Adesso siamo al Senato. Ma la manovra non è un'altra, però mi scusi un attimo. I conti sono cambiati, però. Sì, ma alla Camera dei Deputati c'era quota 100 già, c'era tutto il sistema delle pensioni minime, c'erano gli aiuti all'impresa, c'era tutto l'impianto che adesso arriva al Senato. Sono cambiati i saldi, nel senso che, per spiegare agli italiani, l'Europa ci aveva chiesto di trovare più soldi per ridurre il debito. Sono diminuiti di 10 miliardi, 9, 10, quant'è diminuito? Sì, ma che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto le agevolazioni Ires, per esempio, alla Chiesa. Ecco, questa, come me l'ha visto, ha trovato questo punto. Giusto per concludere questo discorso, anche perché lei mi poneva il problema delle opposizioni. È logico che, siccome c'è stato un accordo con l'Europa, tarderà l'arrivo in approvazione definitiva della manovra. Vorrà dire che, come ministri e come parlamentari, lavoreremo anche tra Natale e Capodanno e siamo pagati profumatamente per farlo. Capodanno e Parlamento come un cinepanetto. No, Capodanno è impossibile perché andiamo in esercizio provvisorio. Senta Di Maio, però, diciamo, c'è un tema. Se l'aveste fatta l'opposizione, quello che state facendo voi, cioè di esautorare, mettere la fiducia su tutto, avete battuto sia Renzi che Letta per il numero delle fiducia emesse. Voi protestavate molto nella passata legislatura. Se l'avessero fatto i governi precedenti, quota 100 per superare la Fornero e, per esempio, la tassa al 15% a tutte le partite IVA sotto i 65 mila euro, il Movimento 5 Stelle, neanche esisteva. Perché se quelli là di prima avessero fatto le cose che stiamo facendo adesso, questo è un dato politico. Non saremo in questa situazione, abbia pazienza. Senta, ha citato il taglio dell'IRES. La CIE dice che se tagliamo gli sconti di IRES, ad esempio a chi fa volontariato, sono proprio più deboli a soffrirne. Ma questo non è uno scontro con la Chiesa. Noi siamo disponibili al massimo del dialogo. Cioè, quindi potrebbe cambiare? Però, attualmente, quello che abbiamo fatto è stato dire anche nel comparto del mondo della Chiesa possiamo pensare di fare una riduzione dello sgravio IRES e poi, insomma, nei prossimi mesi tutto questo mondo a cui fa riferimento una parte dei cittadini comunque avrà il massimo del dialogo col governo. Però non è che siamo andati a tagliare soldi alle persone in difficoltà. Abbiamo detto al mondo della Chiesa guardate uno sgravio in meno quest'anno. Però le associazioni rischiano di scomparire se non riescono ad avere le agevolazioni. Sono le associazioni che aiutano i più deboli. Guardi, questa non è una penalizzazione per le associazioni volontarie. Eh beh, loro non avvenzano così però. Eh va bene, vorrà dire che discuteremo ma io le dico anche che questo è un governo che con questa legge di bilancio interviene sulle fasce più deboli della popolazione che vanno alla mensa dei poveri ancora come i pensionati, come gli invalidi quelle persone oggi avranno un grande sostegno grazie a legge di bilancio alla pensione minima alzata alla pensione di invalidità quindi ci sono buone possibilità per aiutare molti più italiani. Allora, domanda topica sulle clausole di salvaguardia. Allora, voi avete predisposto che l'anno prossimo per non fare aumentare l'IVA al 25% poi addirittura al 26,5% dovrete trovare 23 miliardi. lei sa benissimo che tutta la manovra per quest'anno vale 31 miliardi quindi l'anno prossimo già partite da meno 23 dove li troverete questi soldi? La manovra di quest'anno come ha detto lei vale circa 30 miliardi ci avevano detto che non c'era un euro quindi avevo promesso a commercianti e consumatori che non avremmo aumentato l'IVA e l'IVA non è aumentata quest'anno però aumenta l'anno prossimo se non riuscite a disiniscarle. La promessa gliela faccio quest'anno che l'IVA non aumenterà l'anno prossimo per due ordini di ragione da gennaio parte il cosiddetto team mani di forbici che comincia a tagliare tutto quello che non serve nello Stato e che non abbiamo potuto fare in sei mesi perché dovevamo tagliare tanti sprechi e secondo le dico anche un'altra cosa questa storia delle clausole di salvaguardia è figlia di una contabilità europea che va cambiata e a maggio tutti i popoli europei daranno un grande segnale io ho molta fiducia alle elezioni europee non solo in Italia perché si possano cambiare alcune logiche europee e cambiandole vedrete che cambierà anche un'impostazione di bilancio i clausole di salvaguardia ci sono ogni anno ogni anno le dobbiamo disinnescare sono 23 miliardi che insomma sono tanti prendo questo impegno con lei ci vediamo tra un anno di questi temi lei ha toccato un altro punto perché questo lo ripetete spesso anche qui in questo studio lo ripeto anche io facendo la vostra parte quando serve cambierà la commissione a parte che la commissione arriverà fino a novembre sì vabbè ma dopo le elezioni europee certo e di missionari e però Di Maio come si spiega che ad esempio leader come Kurz che doveva essere in teoria un sovranista alleato di questo governo è stato il primo a chiedere inflessibilità sui conti italiani quindi non è che ci aiutano tanto Kurz non è il mio alleato però di Salvini e vabbè vorrà dire che nei prossimi mesi noi io sono impegnato nel creare un gruppo parlamentare in Parlamento Europeo nuovo e terrà al centro forze politiche che non sono né di destra né di sinistra Kurz è di destra e credo nel fatto che bisogna mettere al centro di nuovo il lavoro il reddito a livello europeo e smetterla con gli zero virgola secondo me non ci sarà una divisione nel prossimo Parlamento Europeo tra destre populiste sinistre ci sarà una divisione tra chi vuole riformare l'Europa per aiutare le persone e chi invece rimane legato agli interessi di qualche bilancio di qualche numero di qualche paese avete già qualche nome per un candidato presidente della commissione europea? tutto si svolgerà nei prossimi due mesi perché le elezioni europee ci sono il 26 maggio insomma intorno verso la fine di maggio tra gennaio e febbraio insieme ai rappresentanti di altre forze politiche europee presenterò un manifesto che è il manifesto programmatico le conoscerete a breve non ho fatto ancora nomi e non faccio diciamo non le do lo scoop ma le posso assicurare che in tutti i paesi europei stanno nascendo forze politiche come le nostre che non si collocano né a destra né a sinistra che stanno già in parlamento alcune sono entrate altre entreranno beh un nome me lo dica no non glielo posso dire vabbè allora ci abbiamo provato se fosse Salvini Salvini quindi non sarebbe il suo candidato presidente della commissione europea? noi siamo divisi e corriamo l'uno contro l'altro alle regionali alle comunali alle europee poi abbiamo fatto un contratto di governo a livello nazionale devo dire che il contratto sta andando bene molti di quei punti sono dentro la legge di bilancio io sono contento sarò contento entro fin anno di firmare un decreto lo dico a tutte le imprese che ci seguono un decreto ministeriale al ministro del lavoro che abbassa del 30% il costo dei premi Inail cioè le imprese versano un premio all'Inail per gli infortuni sul lavoro che era calcolato sugli anni 90 la notizia è che dal primo gennaio costerà il 30% in meno perché li ricalcoliamo sul 2018 a proposito dei rapporti con gli alleati oggi alle 15 dovrebbe arrivare in consiglio dei ministri la bozza sull'autonomia Giorgetti avvisa oggi sul Corriere che ne va dell'esistenza del governo autonomia parliamo di regione Lombardia e Veneto è d'accordo? non c'è bisogno di alzare questa tensione sono stato io in Veneto cioè Giorgetti alza un po' la tensione no voglio dire che non c'è bisogno di mettere in discussione il governo perché noi abbiamo sostenuto come Movimento 5 Stelle il referendum di Lombardia e Veneto quando ci sono stati l'anno scorso e io credo ma dando più autonomia finanziaria alle regioni del nord che sono più ricche non si rischia di penalizzare le regioni del sud che sono più povere? se si inizia con questa impostazione è chiaro che poi si scatena una guerra tra nord e sud su questo come Movimento 5 Stelle come ministro del lavoro e dello sviluppo economico io voglio garantire che il processo di autonomia non sarà un processo che danneggerà le altre regioni ma semplicemente sono regioni che chiedono autonomia in base alle proprie disponibilità finanziarie sono anche regioni che hanno una forte economia e quello che faremo sarà rispettare l'esito di un referendum cioè quei cittadini hanno votato per un referendum quel referendum va rispettato poi se ci saranno altri referendum in altre regioni rispetteremo anche quello ma non dovrà essere un togli da una parte e metti da un'altra non è questo il ragionamento il referendum sulla Tav cosa ho messo il referendum è venuto in mente Salvini lo voleva lei lo vorrebbe fare il referendum a livello nazionale serve una legge costituzionale quindi è il miglior modo per non vederla mai più lo so che peraltro è un trattato internazionale però qualcuno dice qui si può fare consultivo per questo io lo riporto se c'è invece una richiesta a livello territoriale chi siamo noi per bloccare una richiesta di referendum a livello territoriale ci sono i regolamenti del testo unico degli enti locali del 2000 che permettono di fare le domande allora le presento Enzo Miglino buongiorno ci sei già messo la sciarquatela con bravo adesso me la metterò anch'io che chic finisce questa settimana giusto 4-5-5-5-0 si può ancora donare mi raccomando facciamolo tutti per finanziare per aiutare la ricerca contro le malattie genetiche portate avanti da Teleton insieme ad altri istituti di ricerca fino a domani il 22 dicembre e intanto per tornare alla politica serena con la clip che era numero uno aggiungiamo un po' di pepe vediamo un po' Enzo Miglino detto anche il perfido Miglino da anni oramai perché non è una cosa nuova però vabbè vai è un anno di oramai sei così quindi succede comunque ci vuole un perfido in un gruppo di lavoro assolutamente se no che spizio c'è bravo dicevamo si parla di marcia indietro di marcia indietro del governo italiano sulla manovra insomma è stato tema di dibattito ieri da noi in studio ma non solo vediamo un po' il momento 5 stelle cosa diceva su alcuni temi a lui molto cari prima delle elezioni e non solo dire no a questa roba qua al terzo balico al tav a queste grandi opere il movimento 5 stelle era ed è no tap noi qui stiamo parlando di una violenza perpetrata a carico di questo territorio il tav è stato progettato decine di anni fa per costruire un'infrastruttura che è assolutamente inutile con il movimento 5 stelle al governo quest'opera si chiude non si finisce non si fa più e sbaglia chi dice il contrario il movimento 5 stelle è assolutamente contrario all'acquisto dei cacciabombardieri F-35 perché sono inutili perché sono un immane spreco che non possiamo permetterci e perché sono anticostituzionali gli F-35 sono uno strumento di morte non volete farvi buccare quella cazzo di Valle li fa schifo per noi il tav è un'opera totalmente scellerata quest'opera che è antistorica ormai questa gente va fermata con l'esercito italiano Luigi Di Maio è d'accordo con Tofalo che gli F-35 vanno bene? no il movimento 5 stelle è sempre stato critico e resta critico sugli F-35 poi io ho visto che il sottosegretario Tofalo ha detto avranno una tecnologia fantastica avranno pure una tecnologia fantastica però in questo momento per quanto mi riguarda però lui le difende l'acquisto invece no alle spese militari inutili bisogna tagliare non bisogna aggiungere e quindi come ha detto ieri il ministro della difesa nel 2019 faremo una revisione di questo programma alcuni sono stati già acquistati ma questo non vuol dire che dobbiamo spendere tutti i soldi previsti per questo aereo per questo cacciabombardieri ma non perché non si voglia aiutare l'industria della difesa a creare i velivoli che ci servono ma noi per esempio abbiamo dei progetti fantastici a livello europeo c'è l'Eurofighter che è un progetto già avviato abbiamo già degli F-35 quello che dico è questa è una manovra che ha recuperato mezzo miliardo di euro e la spesa militare è inutile continuiamo a fare così tagliamo da ciò che non serve quindi gli F-35 sono inutili? per me gli F-35 non sono la priorità di questo paese in questo momento le aggiungo però un'altra cosa che non è solo lì che siamo andati a tagliare per esempio abbiamo recuperato 4 miliardi da banche e assicurazioni dopo che per anni agli italiani è stato chiesto di dare miliardi alle banche e le assicurazioni questa è una legge che per la prima volta non c'ha le marchette dentro e taglia quello che non serve sì, dopo di che ci rimettono ci rimettono anche i pensionati quelli sopra i 1500 euro quelli diciamo a partire dai 1500 euro tre volte il minimo perché è bloccato l'adeguamento delle pensioni voglio spiegare una cosa per andare a colpire i pensionati d'oro perché questa legge di bilancio colpisce i pensionati d'oro anche da 10.000 euro netti al mese noi facciamo un prelievo però ci sono certo no, ce ne sono ce ne sono e in alcuni casi ci sono pensioni da 500.000 euro netti all'anno sono 25 persone ma quelle 25 persone rappresentano uno schiaffo alla miseria a chi prende 500 euro al mese quando siamo andati a fare questa operazione allora per garantire la proporzionalità prendiamo un euro dalla pensione di 1500 e andiamo a prendere invece migliaia di euro dalla pensione di 500.000 è questo il lavoro che abbiamo dovuto fare per rispettare la costituzionalità se no poi c'era qualcuno che ci veniva a dire che non era legittimo l'intervento senta la scelta di permettere ai sindaci di assegnare appalti ad affidamento diretto fino a 150.000 euro suscita un po' di perplessità lo stesso ANAC ha detto che così si andrebbe ad affidare senza gara per capirci il 70% degli appalti qui da noi Bonafede ha detto che forse ci si poteva ripensare non so lei che dice perché poi per un movimento che fa della trasparenza è una norma che stiamo rivedendo però voglio dirle anche che io sono meno preoccupato sulla corruzione al di là che questa norma si sta rivedendo in che senso vorreste aumentare il tetto nel senso che noi abbiamo solo un obiettivo quello di far spendere il prima possibile e bene però i soldi che mettiamo nella legge di bilancio per gli investimenti in dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio quindi se ci saranno delle deroghe saranno rivolte solo alle spese urgenti per gli adeguamenti antisismici e il dissesto del territorio che significa non morire più di pioggia e quelli richiedono degli interventi urgenti che siccome sono enormi dal punto di vista dell'ammontare in termini di euro e di migliaia di euro per fare una gara ci vuole una vita lei dirà ma modificate e semplificate il codice degli appalti lo stiamo facendo ma lo faremo durante tutto il 2019 perché è un'opera importante semplificare il codice degli appalti volevo dirle un'altra cosa però io sono molto più tranquillo sull'anticorruzione in questo periodo perché c'è la legge spazzacorrotti abbiamo approvato una legge che finalmente dice che se prendi uno con le mani nella marmellata cioè un corrotto che sia politico o burocrate lui non vedrà mai più la pubblica amministrazione si chiama Daspo per i corrotti li mettiamo fuori dai comuni e dalle regioni non ci entreranno mai più rispetto a anni in cui vedevamo quelli condannati ancora dentro alle istituzioni allora due domande veloci ma è vero che ha domandato ai suoi di registrare le conversazioni con Berlusconi ha già delle registrazioni? Registrazioni quello che ho detto ai nostri parlamentari è stato visto che Berlusconi ha lanciato questa operazione scoiattolo che è patetica mi lasci dire in cui sta provando dalla manina allo scoiattolo a comprare i nostri parlamentari io ho detto fingetevi interessati e registrate vediamo se nei prossimi giorni avremo altro materiale per la propria della Repubblica ora che gliel'ha detto non lo faranno più a breve avrete tutte le notizie del caso quindi arrivano queste registrazioni ce le fa ascoltare quello che vi posso dire è che abbiamo raccolto informazioni importantissime ah e quindi ce le manderete ce le darete non me ne vogliate se non le manderò va bene senta due domande Conte ha ringraziato Mattarella che ruolo ha avuto nella trattativa con l'Unione Europea Presidente Mattarella dal punto di vista della garanzia costituzionale e istituzionale di questi giorni come sempre è stato fondamentale è chiaro ed evidente che il Presidente Mattarella in questi mesi è stato anche un po' l'angelo custode di questo governo ma non nel senso politico nel senso di garante della Costituzione abbiamo lavorato durante il ciclo di vari incontri che abbiamo avuto al Quirinale per la formazione del governo poi è nato il governo in questi mesi ha seguito con attenzione sempre in maniera imparziale tutto l'iter di formazione della legge bilancio ce l'abbiamo fatta non abbiamo la procedura di infrazione e stiamo mantenendo le promesse il capo di gabinetto di Tria si è dimesso io parlo con la manina perché ogni riferimento ha fatto in persone puramente casuali in quel caso no non lo so la vedo con la manina tra le mani tra l'altro questo è di Virgilio a San Gregorio Armeno a Napoli l'abbiamo fatta fare noi infatti sto sempre qua ed è un funzionario dello Stato che ha deciso di dimettersi andiamo avanti ma c'era che cosa era la mega vendetta è partita no no anzi mi pare che siano state dimissioni volontarie quindi nessuno ha chiesto dimissioni pubblicamente sento un'ultima cosa l'ha vista l'amica geniale? sì devo dire che sta andando benissimo e tra l'altro sono contento che la Rai con questi prodotti stia dando spazio anche alla divulgazione via web su RaiPlay sta facendo delle grandi operazioni su RaiPlay che sono importanti perché attraggono un pubblico che è più giovane e che la Rai stava rischiando di perdere e poi forse per un ragazzo del sud o per una ragazza del sud quella storia di riscatto no? quella è la storia è anche un sogno no? un sogno che ognuno non mi dica che è il sogno del Movimento 5 Stelle come Fratelli Wright insomma avete abolito la povertà avete abolito la corruzione a gennaio cosa abolite? guardi queste cose ce le dovranno dire gli italiani la mia più grande soddisfazione sarà non dover dire più quello che abbiamo fatto perché i cittadini spero nei prossimi mesi possano percepire i frutti del risultato che stiamo portando a casa altrimenti resterà solo su carta e non servirà a nulla buon anno buon Natale buon anno grazie al ministro Di Maio